Arrivavano in Toscana gli affari sporchi del clan dei Casalesi, a scoprirli i carabinieri di Caserta e la Guardia di Finanza di Firenze che hanno arrestato sei persone. Le accuse sono di estorsione, possesso di dollari falsi e trasferimento fittizio di beni, sotto sequestro, quote societarie e beni immobili per circa 2 milioni di euro. In manette anche due imprenditori, Bruno Fratarcangeli, di 55 anni, del Frusinate, per recuperare crediti da alcune ditte dell'agro Aversano, si è rivolto a due uomini ritenuti vicini alla fazione Bidognetti del clan dei Casalesi. I due storcevano i debitori cifre superiori a quelle dovute. Si tratta di Giuseppe Ventre, 56 anni, già in carcere, e Massimiliano Di Fusco, 47 anni, arrestato durante il blitz. L'altro imprenditore è Giovanni Potenza, 62 anni, originario di Villa Literno, nel Casertano, ma residente in provincia di Arezzo. Già condannato per associazione ai clan Nuvoletta di Napoli e Tavoletta Occero di Caserta. Aveva intestato i suoi beni ad alcuni dipendenti e attraverso queste società, che aveva trasferito in provincia di Arezzo, fatturava false operazioni, facendosi restituire indebitamente l'IVA dallo Stato. Secondo gli inquirenti, Potenza ha consentito alla Camorra di investire soldi sporchi fuori dalla Campania. Alcune società a lui riconducibili hanno anche eseguito lavori pubblici. In manette anche Francesco Felaco, 40 anni, e Roberto Biffa, 39 anni, coinvolti nell'intestazione fittizia di beni.